ebbene ragazzi andiamo al match e vediamo se riusciamo a fare una vittoria che ci porterebbe praticamente direttamente in divisione 5 in maniera immediata parte meretta che però comunque un portiere forte mi serve quindi bene così avanti napoli napoli algeria contro tebaldi no io perché a parte i scherzi non c'è solo piacere se riusciamo a conquistare subito la promozione sarebbe un bel colpo un bel colpo partiamo così meno lo botta paio di errori in uscita il maestro poi c'è Mbappé e poi Kim e ancora Kim attenzione proviamo a chiudere ancora Benzema dentro palo palo incredibile mamma mia confusione assurda ce ne usciamo e ora se ne va Mario Rui prova a ripartire chi grande palla per Kvaraschelia che si gira la grande Kvaraschelia e poi anche chissà dopo la giocata spettacolare di Kvaraschelia Frank Zambo anche chissà due giocate sensazionale ragazzi e allarga ancora per Mario Rui cross di Mario Rui c'è Osimè niente da fare Anghissà è incredibile colpo di testa incredibile di Anghissà Frank Zambo Anghissà doppietta di Anghissà ragazzi dentro per il maestro Mario Rui che la dà ancora Kvaraschelia il cross di esterno c'è il ciocchi Osimè niente Kim di Lorenzo calcio spettacolo c'è la giga mala grande c'è Zielinski dalla distanza miracolo di Andanovic cross dalla bandierina c'è Kvaraschelia che stacca ma Andanovic c'è attenzione recupera palla sanguinosa Osimè niente Kvaraschelia purtroppo però la palla non passa Zielinski però recupera subito palla Zielinski cross di Zielinski Osimè niente di testa troppo troppo debole grandissima palla per Kvaraschelia dentro per Osimè che però fermarsi a trafere Kvaraschelia una bomba che Andanovic devia in fallo laterale Kvaraschelia dentro Kvaraschelia cross di Kvaraschelia c'è Osimè che la colpisce di testa traversa lo zono il ciocchi lo zono e sono tre amici e sono tre un gol assurdo con la palla di Imbalda sulla traversa e rimane lì per il ciocchi che ha tutto il tempo di appoggiarla e di segnare attenzione Osimè calcio spettacolo attenzione il ciocchi cross immenso Osimè miracolo di Andanovic miracolo di Andanovic Angissa Ziliski attenzione Kvaraschelia che prova un mio una botta spaventosa dalla distanza Osimè fine primo tempo 3 a 0 doppietta di Frank e gol del ciocchi in realtà fa un cambio giochiamoci questo secondo tempo a 200 all'ora come abbiamo fatto col primo della palla Ziliski per Di Lorenzo cross immenso Osimè a Ziosi non riesce a segnare Ziliski dentro per Kvaraschelia Kvaraschelia cross in mezzo c'è Osimè la parata miracolosa di Andanovic vado a corner Zielo cross in mezzo c'è il capitano sciolito passaggio per Politano Politano dentro Elmas dentro a fare il sciolito Zieliski la parata di Andanovic vede dentro il sciolito per Politano Politano per il sciolito attenzione Zieliski erroraccio di Zieliski ragazzi però non influisce sul risultato portiamo a casa la vittoria e la promozione in divisione 5 bene così bene così ragazzi sono molto felice molto molto felice ci abbiamo messo molto molto meno partite rispetto alla divisione 6 rispetto alla divisione 7 per passare in divisione 6 questa volta veniamo promossi in divisione 5 con poche partite ne abbiamo giocate 6 e abbiamo raggiunto la promozione becchiamo un po' di premi 3 vittorie consecutive 10 punti in totale dopo il pareggio iniziale saltiamo le partite e approdiamo in divisione 5